Buongiorno, in questo video vi spieghiamo la potatura del cachi, dall'allevamento alla produzione, dalla pianta piccola alla pianta vecchia. Questa è una pianta allevata a vaso. Com'è stato fatto l'allevamento a vaso? Quando la pianta aveva un anno è stata tagliata a circa 80-90 cm da terra. Le branche che se ne sono venute fuori hanno formato la struttura primaria. Il nostro scopo adesso è quello di mantenere le branche primarie con una cima ed eliminare tutto ciò che sta nell'interno. Togliamo i succhioni che sono i più ingombranti. Ci aiutiamo col segaccio nelle zone più difficili per la forbice. Ricordatevi che la cima non va mai tagliata. Tolgo questi rami dorsali che danno fastidio, rifaccio la cima e poi tolgo questo ramo dorsale. Ricordatevi che il cachi non deve avere branche troppo lunghe perché il cachi tende a spaccare i rami, per cui non è flessibile. La forma di allevamento della pianta deve essere a vaso. La forma a vaso è una forma adatta per i fruttetti familiari e permette di raccogliere direttamente la terra. Come dicevo ci sono le branche primarie. Le branche primarie costituiscono l'impalcatura della pianta e danno una struttura portante. Sulle branche primarie abbiamo delle branche secondarie, per cui questa è la branca primaria. Se è troppo lunga la riportiamo su una secondaria. Togliamo tutti i rami dorsali e eventualmente anche sulle branche secondarie facciamo dei tagli di ritorno. Cosa vuol dire tagli di ritorno? Vuol dire ritornare con una cima di un anno che sta più indietro rispetto alla branca. Alla fine otteniamo una pianta che è armoniosa con le branche primarie tutte che hanno più o meno nella stessa altezza e rivestite di una serie di branchette secondarie piene di rami a frutto. Questa è una pianta ancora giovane che ha circa 6-7 anni e che si prepara per entrare nella fase adulta. L'importante è evitare che questa pianta sfugga troppo verso l'alto. La potatura del cachi è una potatura tendenzialmente invernale, come quasi tutte le piante da frutto. Bisogna fare una potatura estiva solo per togliere gli eventuali succhioni che si formano nel periodo estivo all'interno della pianta. Se questo non viene fatto dobbiamo toglierli in inverno. Il frutto del cachi si stacca quando invaia, quando cominciano a diventare arancioni e per staccarli bisogna utilizzare la forbice. Con la forbice si stacca il frutto dal picciolo. Il frutto del cachi è un frutto climaterico che ha bisogno di etilene per maturare. Per cui basta metterlo vicino a frutti che producono etilene e si ha la maturazione. E quali sono i frutti che fanno etilene? Le banane o le mele. Perciò nel gestione della frutta mettere banane, mele, cachi e kiwi fa maturare tutta la frutta uniformemente. Abbiamo appena finito di potare una pianta di 6-7 anni. Una pianta impalcata bassa e facile da raccogliere. Cosa succede se la pianta invece è più alta e potata male? Vediamo qui invece un cachi che ha più di 15 anni che è sfuggito verso l'alto e ha una serie di succhioni che si formano tutti gli anni. Cosa facciamo adesso? La prima cosa da fare è togliere tutti i succhioni che ci sono sulla pianta. Questo può essere fatto o con il troncarami o con un segaccio. Allora perché si formano i succhioni? I succhioni si formano perché la pianta probabilmente l'anno precedente è stata potata in modo troppo intenso. E allora la pianta risponde emettendo dei forti rami a legno. Alla fine abbiamo tolto tutti i succhioni. E' importante eliminarli tutti perché questi ci spingono la pianta verso l'alto. Questa è una pianta che ormai è invecchiata e ha bisogno di essere un attimino ringiovanita e riabbassata in modo da poter raccogliere i cachi direttamente da terra. Per far questo sulle branche primarie procediamo un taglio di ritorno ringiovanendo la pianta e andando su una branca più giovane. Questa sarà la cima della nuova branca principale. Questa è una bellissima zona ricca di rami a frutto. I rami a frutto sono questi molto piccoli che portano nella parte terminale le gemme a frutto. Sceglierò la mia cima, sul laterale lo riporto così e così in modo da evitare che si appesantisca troppo questa zona qui. Un'altra area da controllare è questa alta dove ho una vecchia branca che mi svetta troppo e allora la taglio. Questa è la nuova cima di questa branca e avrò riportato più in basso la mia pianta ringiovanendola. Ho concluso la potatura di una pianta adulta anzi un po' invecchiata riabbassandola e rendendola ancora possibile la raccolta da terra. Ricordatevi che è importante partire da una pianta giovane impostata in modo corretto con un'impalcatura molto bassa e delle branche ben distribuite tutti intorno all'asse. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima lezione di potatura.